Matteo Salvini, segretario della Lega, è arrivata ad una festa del partito a Grumello del Monte, provincia di Bergamo, ci troviamo nella regione Lombardia e, da come si legge nel web, avrebbe detto le seguenti parole Proverò a cercare in Parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani Ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione, è avvento in Murise e in Friuli Dunque potrebbe chiedergli pre-incarico per quanto riguarda il governo, il buon Matteo Salvini Infatti a chi gli avrebbe chiesto? Chiederà un pre-incarico per fare un nuovo governo? Salvini avrebbe risposto, perché no? Punto interrogativo Ci provo fino all'ultimo a dare un governo all'Italia, anche se so che con nuove elezioni strapinciamo da soli Sarebbe dunque convinto il segretario della Lega che potrebbe andare a vincere le elezioni nel caso in cui ci fossero Bene, questo dunque sarebbe quanto, per quanto riguarda la guida al nuovo governo Sembra proprio che Salvini avrebbe detto no a un governo con il Partito Democratico, quindi il PD Il Movimento 5 Stelle, oppure di andare ancora a votare Ecco, questo sarebbe da quello che si legge nel web, chiaramente, non sto dicendo che effettivamente sia così Bene, un chiaro saluto a voi tutti, iscrivetevi e al prossimo video da Narratore Italiano